Il Borghese Piccolo Piccolo, preparato nel 1976, la produzione era Aurelio Luigi de Laurentiis, progetto scritto a più mani e poi io ho incominciato a lavorare e a fare dei sopralluoghi. Faccio dei bozzetti sia dell'interno e dell'esterno, la storia è molto particolare, dovevamo costruire in teatro la Vasca Navale, che erano i teatri dei De Laurentiis. Il lavoro, devo dire, come tutti i lavori di scenografia, bisogna trovare i luoghi, bisogna fare i sopralluoghi. Devo dire che con Monicelli si lavorava molto in preparazione, si facciano delle lunghe preparazioni, quasi sempre anche per film moderni, tre mesi di preparazione, quattro mesi di preparazione per film in costume. Dopodiché si poteva girare anche in poche settimane, se non in poche eravamo tutti pronti e preparati ed era tutto perfetto. Dunque si girava anche con molta semplicità. Avevamo dei grandi attori, l'idea era di mettere Alberto Sordi come personaggio del papà Vivaldi, avevamo la Shelley Winters che era un pezzo da 90, che veniva dall'America, un ragazzo giovanissimo che noi conoscevamo perché faceva la comparsa che era Crocitti e insieme abbiamo incominciato a studiare questo film. Ho fatto l'Accademia di Scenografia del Prera, però in effetti nasco come pittore rapino dai pittori le mie idee. Era un film di solitudine, dunque vedo i quadri di Hopper, vedo i quadri di Alberto Sugui che io conoscevo già da parecchio tempo e vedo che secondo me erano perfetti, da Hopper a solitudine, nelle stanze solitari che guardano in vuoto, guardano le finestre, al di là della finestra. Da Sugui invece gli interni delle case, tutte sui marroni, grigi, scuri, molto pesanti, molto fumosi. E di lì evidentemente progetto questa idea della casa di Vivaldi, appunto con tutte le pareti marroni, scure, grigie, con le finestre tutte dipinte di marrone forte, per dargli queste impressioni di solitudine. La casa era molto scura, tenebrosa, ho chiamato il direttore della fotografia Fulpiangelo, ho detto mi raccomando non mettere molta luce e cerchiamo di tenere i toni bassi, anche dalle finestre, non mettermi troppa luce che entra, cerchiamo di trovare soluzioni. Vorremmo non una Roma tipo scuola romana piena di rossi, bianche e allora a questo punto abbiamo cercato di ottenere con Vulpiani questo ambiente molto scuro e con i colori molto smorti. Si siamo riusciti, devo dire. Le costruzioni, la costruzione è la casa, l'abbiamo fatto lì alla Vasca Navale nel suo teatro, la costruzione è la casa dove imprigiona questo ragazzo che ha ucciso il figlio, che era lì a Torrita di Berina, era vicino al Tevere, che sembrava un lago dove c'era l'allargamento del Tevere. Abbiamo costruito anche la loggia massonica. Devo dire che il film a livello di scenografico, a livello di fotografia, è stato molto, molto perfetto, devo dire. Infatti anche l'interpretazione poi di Alberto e l'interpretazione di Shelley Winters e tutti quanti, devo dire che è riuscitissimo, un film riuscitissimo. Grazie a tutti.